Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni, apro e anche con gioia una nuova finestra, peraltro sollecitato dalla persona che sta con me in studio che è Renzo Poloni, che è il presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti, che mi ha fatto notare l'importanza, quindi la mia manchevolezza e chiedo scusa per non averlo fatto fino ad oggi, perdonato già D'Amblè. Parliamo della Fondazione Teatri delle Dolomiti, che è un esperimento particolare, adesso ce lo spiegherà Renzo Poloni, in provincia di Belluno, per come viene gestito, ma andiamo per gradi, quando parte l'idea di realizzare una fondazione del teatro. Ma il teatro comunale di Belluna è di proprietà del Comune, come dice il nome stesso, è stato gestito per parecchi decenni direttamente dal Comune e poi si è pensato di istituire una fondazione che è un organismo che sostanzialmente, prendendo in mano le vecchie gestioni del Comune, si sarebbe dovuto predisporre a gestire direttamente il teatro, quindi un'entità neutra rispetto al Comune. La fondazione nasce nel 2005 con alcuni soci fondatori, il Comune di Belluno, il Comune di Feltre, la provincia e anche la fondazione Cari Verona, questi sono i soci fondatori. Poi, poco dopo, è entrata anche la Regione Veneto e quindi si era creato questo insieme, diciamo, di enti pubblici, sostanzialmente Cari Verona è un soggetto privato, ma che ovviamente esercita un'azione di tipo pubblicistico, per gestire in linea teorica non solo il teatro di Belluno, ma un po' tutte le attività teatrali della provincia, penso al teatro della Sena di Feltre, tant'è che il Comune di Feltre ne era socio. E infatti è teatri delle domini. Teatri, fondazione Teatri delle domini. E attualmente gestisce ancora i teatri? Attualmente gestisce solo il teatro di Belluno, purtroppo, insomma il teatro di Feltre dal febbraio del 21, credo che sarà, adesso stanno facendo i lavori di restauro e sarà aperto nel febbraio del 21. Ci sono stati dei colloqui con Feltre, io ho più volte richiesto una valutazione al Comune di Belluno e al Comune di Feltre, può darsi che Feltre sia viva verso una gestione autonoma, ma io credo che un unico soggetto sarebbe da molti punti di vista preferibile. E si potrebbe allargare anche le sedi? Pur nell'autonomia di ciascuna istituzione teatrale, ovviamente. Sì, noi abbiamo avuto anche ufficialmente delle richieste di interesse per entrare in fondazione anche da parte di alcuni comuni e lo stesso Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si è dimostrato interessato perché la fondazione, oltre che gestire i teatri, è un soggetto che dovrebbe promuovere la cultura a tutto campo, organizzarla, gestirla, promuoverla. Quindi è un soggetto utile che andrebbe utilizzato per quello che può valere. La fondazione come concetto si parte da una disponibilità finanziaria e da quella poi si ricavano i soldi per la gestione o per le varie azioni che si vogliono fare. In più può essere destinataria di qualche elargizione perché questo facilita molto. Sì, la fondazione per definizione non ha scopi di lucro, è una fondazione di partecipazione e quindi i soci conferiscono alla fondazione delle elargizioni che dovrebbero consentire alla fondazione che ha anche introiti propri di gestire le proprie attività. Insomma, noi ce la facciamo, abbiamo bilanzi da sette anni in attivo e quindi... Che derivano queste entrate? Ma derivano da entrate proprie e quindi gli affitti del teatro, i terzi che ce lo richiedono, poi c'è un contributo da parte del Comune di Belluno, altri introiti ci derivano dall'esercizio proprio di alcune attività. Facciamo anche noi delle iniziative teatrali che quindi hanno un loro incassi e poi i contributi di terzi in particolare, da sottolineare quello di Cari Verona che ci garantisce un buon contributo sulla base di progetti predefiniti annualmente. Noi continuiamo a parlare di teatro comunale, però non è questa la sua struttura che gestite? Ma diciamo quando è nato nel 2005 il core business della fondazione era la gestione fondamentalmente del teatro comunale Belluno, poi via via negli anni la fondazione si è evoluta, a cominciare dal 2015 ha gestito l'ufficio informazioni turistiche della città e poi non si può non ricordare la gestione dei servizi di accoglienza per i visitatori del museo Fulcis e poi in questa evoluzione che c'è stata la fondazione attualmente gestisce anche una serie di luoghi della cultura della città, la sala bianchi, ma anche palazzo Crepadona per la gestione di mostre e eventi adesso è chiuso, ma in prospettiva il Bembo e vorrei citare da ultimo anche il museo naturalistico che fra si sperano molti anni aprirà in piazza Piloni. E questo giustifica l'interesse dell'ente parco ad entrare a far parte? Sì, noi abbiamo collaborato col parco molto bene in tutti questi anni, tra l'altro il parco ci ha dato in gestione diretta un paio d'anni fa tutti gli eventi che abbiamo fatto nei 15 comuni del parco in occasione del 25esimo della sua fondazione. Senti, noi abbiamo parlato di anomalia, una buona anomalia della fondazione, perché quelle fondazioni di questo tipo generalmente hanno come soci degli enti, mentre questa fondazione ha come soci dei riferimenti delle strutture, delle organizzazioni di spettacoli. Sì, più che di fondazione adesso parliamo della residenza teatrale bellunese, che è un progetto interessante e innovativo, che insomma esistono le residenze in Italia, in particolare in alcune regioni, ma la nostra è un po' un'esperienza tipica diciamo. Quindi è differente tra fondazione e residenza? No, la fondazione insieme al Comune di Belluna e ad alcuni soggetti ha alcuni anni fa ideato questa sorta di meccanismo diciamo complessivo per la gestione di alcuni spazi teatrali, interessando alcuni soggetti tipici che fanno attività teatrale, ovviamente li abbiamo messi insieme, coordinati, organizzati e la nave va. Ha risolto, senza entrare nel dettaglio, alcuni problemi che si erano manifestati qualche anno fa. Sì, c'era una conflittualità a metà dello scorso decennio, che credo i cittadini bellunesi non solo ricordino, diciamo che questa situazione è superata, credo con soddisfazione di tutti, tentato, poi il teatro si è anche molto sviluppato. Do solo un dato nella stagione 18-19, quindi la precedente, quest'anno purtroppo ci siamo fermati a inizio marzo per via della pandemia, l'anno scorso il teatro ha avuto 144 utilizzi, ti dirò, e anche perché è l'unico contenitore di una certa entità che c'è nella provincia di Belluno, al teatro arrivano un po' tutti, ma insomma mi pare che l'offerta è ampia, variegata e risponde a diversi fasce di interesse e di pubblico, insomma c'è il teatro per i giovani, per la scuola, abbiamo fatto il teatro civile, c'è il teatro classico, insomma il circolo cultura e stampa che uno dei soggetti residenti fa da 41 anni. Ma questi soggetti residenti hanno dei vantaggi a far parte della residenza, hanno degli obblighi sicuramente. Sì, loro hanno degli obblighi, tra cui la produzione in proprio ogni anno di qualche spettacolo, per esempio che è un obbligo ineludibile, poi devono concertare con noi la programmazione e quant'altro, siamo noi a dover gestire anche la calendarizzazione degli eventi, evitiamo le sovrapposizioni, le duplicazioni, hanno anche dei vantaggi perché sulla scorta di alcuni programmi e di alcuni asset qualitativi e anche quantitativi che proponiamo possono beneficiare anche dei contributi che derivano dal fatto di essere all'interno della residenza teatrale. I tre soggetti sono? Quindi su questo la fondazione destina anche delle somme che non sono sicuramente irrilevanti. I tre soggetti sono il TIB Teatri, il Circo Cultura e Stampa che già citavo e poi la Giovane Compagnia degli Slow Machine. Sì, però il Teatro Comunale ospita anche spettacoli musicali, c'è la Scoppio Spettacoli. Sì, certo, abbiamo una convenzione con la Scoppio Spettacoli che pure mettiamo insieme al tavolo programmatorio e che fa la sua stagione appunto consentendoci di ampliare l'offerta. Le compagnie teatrali possono essere interessate? Ce ne sono tantissime, noi stiamo adesso dedicando uno spazio alle compagnie teatrali bellonesi, peraltro bravissime. Ce ne sono tante, sì. Hanno una possibilità, hanno degli spazi, hanno magari delle agevolazioni per presentare i loro spettacoli? Delle agevolazioni le si possono creare, ma insomma diciamo che anche altre entità teatrali, noi ospitiamo tutti a teatro per definizione perché deve essere un luogo libero, aperto, è una casa comune. Se ci riferiamo per esempio ad altre compagnie teatrali che ci sono sul territorio, molto spesso arrivano al teatro, vengono al teatro e fanno i loro spettacoli. Quali sono i servizi che dà, adesso parliamo del teatro in modo particolare, ma poi abbiamo detto... Sì, è il cuore della nostra azione. Quali sono i servizi che date? Sono la sicurezza, la biglietteria? Gestiamo complessivamente la grande macchina che è una specie di piccola industria, insomma, c'è solo l'accoglienza e poi il pubblico viene lì, c'è tutto un meccanismo dietro, le scene, i macchinisti... Da quando c'è la fondazione, io ho notato, adesso non so se sia perché è stata l'occasione che si è creata in contemporanea con la fondazione, ma sono stati fatti tanti interventi sul teatro, che avete anche un po' stimolato a risolvere alcune problematiche. Tu ti riferisci agli interventi strutturali? Strutturali, sì. Alcuni interventi strutturali non ci competerebbero perché il teatro è proprietà del comune e noi abbiamo degli obblighi che riguardano le manutenzioni ordinarie. Diciamo che abbiamo cercato di smuovere un po' il meccanismo, sì, abbiamo fatto alcuni interventi, alcuni abbiamo fatti anche approfittando della pausa di quest'estate, per cui il pubblico che mi auguro potrà tornare al teatro quest'autunno troverà alcune migliorie significative, Allora parliamo proprio di questo aspetto, il Covid ha colpito duramente tutta Italia, ma il mondo dello spettacolo in modo particolare e le strutture poi, perché chiaramente non si può utilizzare il teatro. Come si chiuderà questo bilancio in previsione? Sarà drammatico, Temo? Ma non è che non si possa utilizzare il teatro, gli attuali meccanismi di distanziamento prevedono all'inizio c'erano norme più severe, sono state in parte ammorbidite, attualmente possiamo ospitare al teatro un posto sì e un posto no per via del distanziamento, quindi potremo arrivare a 300 spettatori e che implica però l'utilizzo di tutti i tre i piani, quindi con una serie di costi che sono in prospettiva difficilmente sostenibili. Mi auguro che si possa in qualche misura uscire dalla pandemia, ma il teatro comunque deve riprendere, deve rivivere, perché la cultura è parte fondante di una società e quindi cercheremo e la fondazione sicuramente si sta già attrezzando per poter consentire un'offerta culturale a partire dal prossimo ottuno all'altezza delle stagioni precedenti. Voi vi siete trovati alla fine probabilmente dello scorso anno per preparare il calendario che poi è stato bruscamente interrotto dal Covid e molti spettacoli, perché poi è capitato che la stagione è primavera, estate, che è quella più intensa. No, guarda, noi a marzo abbiamo dovuto chiudere, ovviamente abbiamo perso 52 spettacoli da marzo a metà giugno che erano già calendarizzati e confermati. Normalmente nella fase tardo-primaverile si fa il programma per la stagione futura, quest'anno il programma è un po' rallentato dai problemi di cui stiamo discutendo, però in prospettiva abbiamo già almeno una cinquantina di date prenotate per la prossima stagione e poi vedremo se sarà possibile. Questa stagione si intende autunno primavera? Sì, noi abbiamo un calendario che è un po' simile al calendario scolastico, il teatro Ape fine settembre in genere con un concerto di musica leggera di apertura che volevamo riproporre anche quest'anno, speriamo di poterlo fare. Poi da ottobre, sostanzialmente a metà giugno, e chiudiamo in genere in bellezza con i saggi delle numerose scuole di danza bellunesi, che è una realtà a volte poco conosciuta ma che organizza centinaia e centinaia di ragazze, di bambini, di bambine, di varie scuole che ci sono nel territorio, non solo in città ma anche in sedico Ponte dei Alpi, insieme ai comuni limitrofi e ospitiamo parecchie centinaia di ragazzi che si esibiscono normalmente al termine dell'anno scolastico. Quest'anno purtroppo tutto questo non è stato possibile. Sì, non volevo fare un torto anche a un'altra associazione importante che è il Circolo Culturale Bellunese che organizza degli spettacoli di musica classica di grande eccellenza. Purtroppo non è una musica di quella che ci si strappa le vesti per andare a vedere ma meriterebbe. Ma il Presidente del Circolo Culturale Bellunese ama dire che loro sono un po' come una piccola scala ed è vero, io ho seguito parecchi eventi. Noi abbiamo fatto una convenzione biennale, 19-20, col Circolo Culturale per cui abbiamo offerto loro alcune gratuità al teatro proprio per consentire un miglior accesso da parte del pubblico che normalmente non è purtroppo numeroso ma credo che sia un'attività e una parte della cultura bellunese che va sicuramente rilanciata e proposta soprattutto ai giovani. Io non sono, ti dirò Andrea, un amante della musica classica ma cominciando a seguirla tramite il Circolo Culturale Bellunese tardivamente mi sto appassionando anche a questo. Uno si fa poi l'orecchio ma bisogna affaticare un po' di più non è l'un, due, tre, quattro della musica rock. Ma c'è tanta qualità che loro propongo. Senti, si usa il termine mission, in realtà è l'oggetto sociale più volgarmente in italiano, è meno bello però è quello e la vostra mission è caratterizzata da una frase di Shakespeare che può lasciare spazio alla fantasia siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Perché avete scelto questa frase? Beh abbiamo voluto metterla perché ci piace perché poi il teatro, la cultura sono un sogno penso che la gente eserciti la propria fantasia migliora se stessi, migliora il rapporto con gli altri mi piace molto quella frase è lì nel nostro sito Sì, infatti lo avete messo anche in questa presentazione il sogno della fondazione sarebbe quello di poter organizzare tutte le strutture di rappresentazione perché io penso, non so, ai vari sali di cinema che non ci sono più, al teatro di Paiane Sì, ma non si deve pensare che noi abbiamo come dire una volontà elcemonica, non è questo No, ma è un'organizzativa Dal punto di vista organizzativo e strutturale abbiamo, come si dice in un altro termine abusato un know-how che ci consente di poter sostenere e aiutare tutti Nel mondo culturale ognuno è giustamente e doverosamente geloso della propria autonomia che va assolutamente garantita e mantenuta a tutti che è un'autonomia a tutto campo ecco, la cultura non deve avere spazi, limiti e divisioni C'è tutta la parte amministrativa, burocratica Ecco, quella parte noi siamo in grado di gestirla anche per altri E con costi decisamente abbassati Assolutamente, si fanno delle economie di scala ma poi mi permetto di dire che abbiamo anche il personale che ormai è adeguatamente più che preparato da anni di esperienza e che quindi può sicuramente consentire un servizio migliore a tutti Senti, c'è un'attività che possono fare molti giovani anche per esperienza che è quello di fare le hostess o gli steward a teatro Com'è che si può... Mascherine, come si dice Mascherine Sì Beh, adesso ne abbiamo circa 20 Basta fare una richiesta inviare una mail al sito della Fondazione Teatri poi le proposte vengono valutate ma normalmente non diciamo di no a nessuno nei limiti ovviamente numerici che non è che possiamo eccedere Tu sei stato Presidente per sei anni Otto 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 Dal 2012 Ma non è becco uno oggi Ma adesso Hai indovinato il numero pari Allora, otto anni però sei in scadenza o già scaduto? Sono scaduto qualche settimana fa E rimani in carica fino a? No, adesso c'è un regime di prorogazio poi siamo in attesa come dire dei nostri successori insieme a me è scaduto il Consiglio di Gestione che è formato da? Da dal Presidente e da due consigliere le mie colleghe Katia Vielle e Licia Fornasier che sono scadute insieme a me adesso aspettiamo che il Sindaco nomini il nuovo vertice della Fondazione alla quale auguriamo il miglior futuro possibile Si può intendere che non sarai tu quindi Non sarò io ma insomma senza senza cercare di essere ingombrante dall'esterno cercherò di passare il più possibile l'esperienza che ho maturato in questi anni poi ognuno va avanti con le proprie gambe non ci saranno problemi Allora io spero di aver aiutato molte persone che fanno questa interessante attività che è nel mondo dello spettacolo dalle compagnie a tre riconoscere meglio questa realtà che forse è misconosciuta a molti e ringrazio naturalmente Renzo Poloni Grazie a te e a voi Che mi ha dato la possibilità di mettere l'accento a fare una sottolineatura dell'attività ringrazio voi per averci seguito appuntamento a domani sera E al teatro Grazie a te e a te e a te e a te e a te